Ci sono imprese che sembra impossibile anche solo immaginare, come ricreare lo storico circuito di Monza in scala 1 a 1 nel cuore del deserto. Un'opera imponente, lunga 5.793 metri. Tutto il circuito è stato riprodotto fedelmente, sia in raggi di curva che le distanze. L'Esmo, Ascari, parabolica. Percorse in modalità X off-road. L'equilibrio perfetto tra potenza, trazione e velocità. Traiettoria perfetta, arriviamo alla variante Ascari. Che spettacolo, ragazzi. Mi sembra di chiudere gli occhi e correre come a Monza. Per realizzare la nostra impresa, ci siamo spinti nel deserto di Merzuga, uno dei luoghi più impervi del pianeta. Situato a 600 chilometri a est di Marrakesh. Una location tanto suggestiva, quanto problematica, per un progetto così ambizioso. Un team di oltre 40 persone, tra ingegneri, meccanici e costruttori, ha lavorato duramente realizzando in tempo record un'opera senza precedenti. Ogni aspetto, dall'ampiezza della carreggiata all'angolo di curvatura delle varianti, è stato riprodotto nei minimi dettagli. Mi sembra di chiudere gli occhi e correre come a Monza. Che spettacolo, ragazzi. Come l'originale in Italia, anche l'autodromo di Monza Sahara ha il suo paddock. Ovviamente in versione off-road. La nuova BMW X5 è pronta. Benvenuti in pista. Per questo rischio, il più difficile che abbiamo fatto oggi è sulle le corne, perché il sande è molto, 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 molto. Quindi si chiama in, la traccia è molto difficile, il caro vuole a tornare, soprattutto con l'oxidio weighto sul raffa. Quindi è molto difficile sulle le corne. Il BMW X5 è stato molto, 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 molto. Anderle i i corni, ero, sono brillanti. Non avevo mai avuto il cario el woo, quindi per me l'X5 è stato brillanti. Ho lavorato molti volte in il deserto, ma non ho mai avuto un dotticpo come l'ho! Questo è davvero incercato oggi. Grazie a tutti.